Ho raccontato di una sua esperienza, noi ci siamo presi la libertà di fumettarla con un'illustrazione della nostra Marica dell'Acqua. In sostanza, provo a recuperarla, un giorno, lei dopo aver fatto footing, lava la maglietta che indossava, che era una maglietta della Maratona di Boston 2000, è corretto? Esatto, una mia passione, una delle cose più serie fatte in vita mia. Cioè, quando uno parla delle cose serie, diciamo. Allora, lei lava questa maglietta e poi cosa fa? Va a ritirarla, perché l'aveva messa evidentemente da qualche parte all'aria, va a ritirarla e scopre che è caduta sul balcone di sotto, giusto? Esatto, e provo a bussare l'inquilino al piano inferiore, ma non c'è nessuno. E non c'era. E allora che pensa di fare? E allora, con molta naturalezza, sono sceso giù in strada, c'era un bar, ho chiesto una scala e ho visto che l'altezza era sufficiente e mi sono fatto dare un bastone, nella speranza di infilarlo nel balcone e tirar fuori la maglietta. Nel momento in cui stavo per farlo, ecco, è scattato un tumulto interiore. Cioè, l'allarme! L'allarme è un stato di turbamento, in questo caso, del presunto ladro, perché nel momento in cui stavo per scavalcare il balcone, per la verità siamo nel novembre, è stata approvata la normativa sulla Dunramo, non era ancora in vigore, ma talvolta arrivano pure gli emendamenti retroattivi, mi permette una battuta. Però nel momento in cui stavo per entrare, ho pensato a tutta la normativa che è stata varata. E dunque, cosa poteva accadere? Che una persona all'interno dell'appartamento che si fosse svegliato, che deteneva legittimamente un'arma, vedendomi scavalcare, poteva tranquillamente spararmi, senza rispettare i principi di proporzionalità tra il rischio e la reazione. Tra l'offesa, eventualmente, certo. Tra la potenziale offesa, perché era ancora lì, senza, come dire, valutare l'assoluta necessità, avrebbe potuto dirmi, con l'attuale sistema, se ne vada, invece poteva spararmi, non solo, ma non sarebbe in corso, neppure nell'ipotesi di eccesso colposo. Cioè, considerato che lei non era armato, lei dice, in ogni caso non ci succedeva nulla, poteva essere accusato di eccesso colposo. Perché, pur non armato, la persona che era nell'appartamento avrebbe dovuto pensare che lo fossi, quindi sbagliando ed eccedendo colposamente. Anche perché lei aveva il bassone, poi. Esatto, aveva uno strumento atto all'offesa. E però, quell'eccesso non sarebbe stato punito neppure sotto la forma di omicidio, lesioni colpose, perché avrei potuto determinargli un grave turbamento nello stato d'animo. Una espressione talmente vaghe, assurda, di difficile, come dire, prova anche sul piano della consulenza, no? E allora, ho continuato in questo articolo, che era un po' evidentemente ironico, provocatorio, dicendo che ho rinunciato alla mia maglietta. Me ne sono scritto giù, ho riportato la scala al bar dove però un giovane si è fatto coraggio, ma ha preso a lui, non dico come perché non vorrei concorrere nel reato. Ma mi sono anche preoccupato, non averlo avvertito, essendo io concorrente, concorrente esterno perché stavo fuori, avrei potuto anche subire la reazione di colui che, ritenendo in pericolo la propria incolumità, avesse deciso di sparare a lui e a me. È un esempio banale? Forse, ma comunque toccherà ai giudici, non ai pubblici ministeri, signor sottosegretario. I giudici non saranno assolutamente privati del loro dovere di giudicare. Nessuno accetterebbe mai una delle mozioni, una delle ragioni di questa riforma, e cioè di impedire i processi a giudizio, tutto si risolve sulla base di quel senso. C'è subito l'archiviazione. C'è sempre legittima difesa, c'è sempre proporzione, non è così. Io sono convinto che la giudizia... C'è un indagino, l'abbiamo detto.